Qualcosa? Un teppista che viene ucciso mentre punta la pistola contro un poliziotto non è finito fra le notizie nazionali. Ti fa male il collo? No, sto bene. Ti prendo un po' di ghiaccio. Ho detto che sto bene. Non dovevo stringerti così. Hai dovuto. Avevi ragione su tutto quanto. Ho trovato qualcosa. Darien doveva avere un altro cognome all'epoca, si vede che era sposata. Nel 2008, è possibile? Non abbiamo mai parlato di quanto tempo era stata dentro. House ha ragione, ha l'epatite C solo da pochi anni. In prigione non le avrebbero mai prescritto l'interferone se non fosse risultato che era cronica. Cos'è che fa sembrare un'epatite recente come un'epatite vecchia? E se avesse dei parassiti? L'epatite C l'ha indebolita e i parassiti hanno aggravato l'epatite. Entamebe. Se fossero state in una cisti, la coltellata le avrebbe liberate e mandate in circolo nel sangue scatenando il disastro. Una sacca di metroni da zolo. Sai, così potrebbe uscire dal coma fra poche ore.